Che succede? Che succede adesso? Arriva Hanaogi. Chi? Hanaogi, la star, la prima donna. Vieni, andiamo. Ma senti, com'è che è vestita così? Beh, le più alte fanno le parti di uomo, più che altro, ma anche quelle di donna. Buonasera. Vieni a vedere lo spettacolo? Ehi, svegliati, Asso. Vieni a vedere.